Ciao, noi siamo AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Padova. Siamo una delle associazioni forensi più rappresentative d'Italia e vantiamo oltre 130 sezioni in tutto il territorio nazionale, quasi una in ogni tribunale. La nostra caratteristica? Siamo l'unica associazione ad avere un limite di età. Si può restare soci massimo sino al compimento dei 45 anni. AIGA infatti ha come proprio scopo statutario la rappresentanza e la tutela della giovane avvocatura. Accesso alla professione, pratica forense, esame di Stato, monocommittenza, pari opportunità, equo compenso, sono solo alcuni dei temi che ci vedono impegnati in prima linea. AIGA ha i propri rappresentanti all'interno di tutti gli organi dell'avvocatura, il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina, la Cassa Forense, il CNF. Organizziamo convegni, webinar, percorsi di formazione e aggiornamento professionale, in ogni materia e quasi sempre gratuiti. Collaboriamo con professori universitari, enti di formazione e con tutte le istituzioni. Ovviamente siamo giovani e ci piace anche fare networking e divertirci. Due volte all'anno, a Natale e in estate, organizziamo i tradizionali party della giovane avvocatura. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative, seguiteci sui nostri profili social.